Musica Magrelli carissimo, come sta? Soddisfatto del festival della vittoria del nostro Mickey Rourke? Non vorrei essere scortese, però delle cose del festival, lavorando al festival... Quindi non può assolutamente rilasciare niente? No, 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 posso parlare ma non le commento... Lei è un grande esegetta cinematografico, Barfly l'aveva visto? Il bellissimo Barfly... Io non sono un esergetto però, mi stia... No, 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 un'esegetta... Ah, un'esegetta, scusami... Barfly certo l'aveva visto... L'aveva visto? Sì Quindi non può dirci niente assolutamente, neanche delle scelte... No, no, posso parlarti, no, a quest'ora non posso parlare niente... Due, tre film che le sono piaciuti senza... Del festival? Del festival... No, no, non te lo dico... Non può dire niente... No, non è che non posso... Proprio ho scelto... C'è una scelta sua personale... Io uso un aggettivo... Se tu mi chiedi qual è quel film, uso sempre l'aggettivo magnifico... Magnifico... Che si fa proprio una presa in giro... Tutto magnifico... Tutto magnifico... Tutto magnifico... Tutto magnifico... Però appunto è un gioco che faccio proprio perché non mi sembra elegante... Perfetto... Magrelli grazie mille... Magnificamente Magrelli... Ciao... Ciao... Scusami... Figurati... Grazie mille... 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 Grazie a tutti.